I miliardari americani volano a Miami per assistere al Gran Premio di Formula 1, mentre sull'economia reale si alzano preoccupanti venti di recessione. Ma non solo, nel video di oggi parliamo anche del tetto al debito USA e degli indici azionari americani, che a sorpresa non mostrano nessun segno di debolezza, con il Nasdaq che da inizio anno sta segnando il più 20%. Scopri tutte le news finanziarie più importanti della settimana in questo video. La scorsa domenica si è tenuto sul circuito di Miami il Gran Premio di Formula 1. L'evento ha attirato molte celebrità e ovviamente non potevano mancare gli imprenditori multimiliardari come Jeff Bezos e Elon Musk, che non si sono fatti scappare l'occasione di partecipare ad un evento così glamour. I due hanno tenuto dei colloqui informali con due team storici. L'uno con Red Bull e l'altro con McLaren. E i giornali ipotizzano possibili sponsorizzazioni a questi team da parte delle loro aziende. Visto il grande successo che questo sport sta ottenendo negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti. Ricordiamo che al momento questi due team sono sponsorizzati da due colossi della Silicon Valley, Oracle e Google. Una sponsorizzazione da parte di aziende come Amazon o Tesla, dove tra l'altro quest'ultima potrebbe dare anche un sostegno tecnologico nel campo delle batterie per le auto da corsa, sembra quindi del tutto plausibile. Dopo il Gran Premio Jeff Bezos è stato immortalato a cena con Ken Griffin, il leggendario fondatore di Citadel. Fondo di investimento che, come probabilmente vi ricorderete, l'anno scorso ha segnato un record per quanto riguarda il guadagno mai raggiunto da un fondo Edge. Riguardo Citadel avevamo fatto proprio un video dedicato, vi lascio il link in descrizione se volete recuperarlo. Molto interessante capire come questo signore riesce ad ottenere certi risultati. Da queste chiacchierate però non è uscita nessuna indiscrezione, ovviamente. A proposito di fondi dobbiamo parlare di Carl Ikan e dei guai del suo fondo Ikan Enterprises, finito sotto la lente di Inderburg Research. Questo istituto va alla ricerca di frodi e situazioni un po' strane in giro per Wall Street per poi scommettere al ribasso sulle aziende e sulle azioni coinvolte. Lo ricorderete per il recente report contro le società del magnate Adani. L'accusa volta a Ikan ha dell'incredibile. Secondo Inderburg, gli altissimi dividendi che il fondo offre ai suoi clienti, parliamo di cifre intorno al 15%, sarebbero distribuite ai clienti solo grazie alle entrate di nuovo capitale da parte di altri clienti, mettendo in atto di fatto uno schema Ponzi. Nel report, inoltre, si accusa il fondo di aver truccato gli ultimi bilanci, sovrastimando il valore delle partecipazioni almeno di un 20%. Accuse, quelle contro il fondo di Ikan, che già qualche anno fa erano state lanciate da UBS, che aveva cessato di esprimere valutazioni su questo fondo a causa di poca trasparenza sui conti. Queste accuse, ovviamente, hanno scatenato l'attenzione delle autorità americane, che vogliono vederci chiaro, e i procuratori del distretto di New York hanno avviato un'indagine. Ma mentre i miliardari americani erano intenti a festeggiare il Gran Premio di Formula 1, salivano le preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti, con dati macro sempre meno promettenti, che continuano a susseguirsi settimana dopo settimana. È il caso dei dati sulla disoccupazione, che a prima vista possono sembrare positivi, con la disoccupazione tornata al 3,4%, praticamente sui minimi toccati addirittura 50 anni fa. Ma è scorporando questi dati che gli analisti si sono accorti di una situazione preoccupante. Nelle aree povere del sud degli Stati Uniti, parliamo di Louisiana, Georgia, Alabama, si è vista una decisa perdita di posti di lavoro nel mese di aprile. Perdita che nei dati totali sulla disoccupazione viene bilanciata dall'aumento o dall'aggiunta di posti di lavoro nelle aree più ricche degli Stati Uniti, come le aree della California e di New York, per intenderci. Gli analisti, che si sono accorti di questa diversità tra aree geografiche, ipotizzano che una recessione possa partire proprio dalle aree geografiche più povere degli Stati Uniti, per poi espandersi a tutta la nazione già a partire dal 2023. I dati sulle nuove posizioni vacanti ne sarebbero una conferma, visto che generalmente sono i primi a registrare un segno meno, mesi prima che il tasso di disoccupazione si alzi. Questi dati hanno raggiunto il picco ad inizio 2022 e sono in calo da inizio dicembre. Anche i dati sul PIL confermerebbero questa tesi, con l'ultima rilevazione trimestrale di fine aprile che ha segnato un più 1,1%, quasi l'1% in meno rispetto alle aspettative degli analisti. Altra bega per gli Stati Uniti è la diatriba sul tetto del debito. Il tetto al debito fu stabilito nel 1917. Fino ad allora ogni governo doveva chiedere l'autorizzazione al congresso per poter emettere nuovo debito. Durante la prima guerra mondiale il congresso diede via libera per rendere più veloce la procedura. Ma non volendo mettere un segno in bianco nelle mani del presidente in carica, si ottenne appunto l'inserimento di un tetto massimo. Oltre questo tetto massimo sarebbe stata necessaria l'approvazione tramite legge. Da allora la legge è rimasta la stessa ed il tetto all'indebitamento è stato alzato decine di volte e in alcuni casi addirittura sospeso. L'ultima crisi si verificò nel 2011, quando l'allora presidente Barack Obama andò incontro ad un braccio di ferro con la maggioranza repubblicana del congresso. Gli uffici federali chiusero per giorni e l'agenzia di rating Standard & Poor's declassò il debito USA da AAA ad AAA+, evento unico nella storia dei mercati che provocò un crollo dei mercati. La crisi si risolse con la vittoria dei repubblicani, che ottennero un accordo per una riduzione della spesa pubblica da parte dei democratici allora al governo. Il rischio è che anche questa volta si arrivi ad un punto di stallo. Il mercato per adesso sembra aver ignorato completamente queste problematiche, almeno per il momento visto che c'è ancora un mese di tempo per trovare un accordo. L'unica asset class che al momento ha subito volatilità dovuta appunto a questa situazione di incertezza, è stata quella dei bond ad un mese emessi appunto dal tesoro americano, che hanno visto i rendimenti schizzare ai massimi storici. Questo tipo di bond di obbligazione a scadenza molto ravvicinata è stata emessa per la prima volta nel 2001, e da allora non aveva mai raggiunto un rendimento del 5,5% come quello che è stato raggiunto ora. Il mercato azionario invece sembra aver completamente ignorato la questione del tetto al debito, con tutti gli indici USA in grande recupero da inizio anno. Pensate che il Nasdaq ha sovraperformato l'indice S&P 500 addirittura del più 13% da inizio anno, mettendo a segno una performance di oltre il più 20% da inizio 2023. L'indice è stato trascinato al rialzo prevalentemente da delle blue chip come Meta e Nvidia, rispettivamente al più 100% e più 90% da inizio anno. Da sole queste due aziende rappresentano il 10% dell'indice. Proprio su Nvidia avevamo mostrato la nostra operatività a fine marzo, quando i prezzi erano intorno ai 264 dollari per azione. Da allora il titolo ha fatto registrare un ulteriore più 10% e ad oggi i prezzi sono a 288 dollari per azione. Faremo un bel aggiornamento su Nvidia al webinar di lunedì prossimo, quindi iscrivetevi, vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi anche se non potete partecipare in live, così la mattina dopo vi mandiamo la registrazione. Se potete partecipare in live invece vi aspettiamo alle ore 18 lunedì. Per l'ultima chicca di questo recap settimanale torniamo in Italia. Hanno fatto scalpore nell'ultima settimana i dati sulle esportazioni in Cina da parte dell'Italia, che nei mesi di febbraio e marzo hanno messo a segno un più 130% e un più 25%. La cosa pazzesca è che questo balzo nelle esportazioni è stato innescato esclusivamente dalle vendite di un farmaco generico per la cura del fegato. Ovviamente in Cina non è in corso una epidemia di epatite, ma il tutto è stato scatenato dalla pubblicazione di un articolo sulla rivista Nature, che sostiene che questo farmaco possa aiutare nella prevenzione del covid. In Cina è molto difficile riuscire ad ottenere i vaccini ad mRNA disponibili invece in Europa. E questo ha scatenato la corsa a questo farmaco prodotto quasi esclusivamente dalle aziende farmaceutiche italiane. Se vuoi approfondire questo argomento abbiamo scritto un articolo molto approfondito su investire.biz, vi lascio il link dell'articolo in descrizione. Questa era l'ultima notizia, come detto prima vi do appuntamento al prossimo webinar del lunedì. Come ogni lunedì alle ore 18 trovate tutto quanto per iscrivervi in descrizione.